Dottore Sanappa, dopo questi due giorni si possono iniziare a trarre delle conclusioni anche rispetto a quello che sta facendo il governo. Voi per quanto riguarda il mercato immobiliare avete tirato la cinghia per un periodo, però forse è quello che regge di più. Regge perché finalmente adesso il mercato ha trovato una sua stabilizzazione. Ora abbiamo le banche più vicino, quindi sostengono molto di più l'acquisto e questo per quanto riguarda il mercato della fascia medio-medio-alta. Poi abbiamo la fascia del luxury dove ci collochiamo noi con il marchio Sant'Andrea che è una fascia che continua la sua espansione anche perché è cambiato l'approccio sia alla vendita che all'acquisto. Vendita perché sono cambiati gli asset proprio familiari, quindi non c'è più ragione di possedere la grande casa e quindi ecco perché c'è questa nuova dismissione. Mentre invece l'acquisto si fa come forma anche di investimento per magari farne un'attività, magari vediamo le grandi ville che possono essere adibite e quindi frazionate e quindi creare delle piccole unità immobiliari. Quindi c'è tutto questo lavoro di progettazione, di due diligence che viene fatto a monte prima di collocare in vendita un asset immobiliare molto importante per capire eventualmente anche il frazionamento e poi per la ricollocazione sul mercato. C'è anche un modo per diversificare le attività, ma le famiglie che invece vogliono ristrutturare? Le famiglie che vogliono ristrutturare oggi abbiamo infatti anche le banche che sostengono questi mutui che sono proprio appunto mutui per acquisto e ristrutturazione, questa formula mista e che sta aiutando e dando i buoni frutti. E questo ci consente di avere una vivacità immobiliare data dal numero di transazioni normalizzate che consente appunto di avere dei numeri positivi a fine. Infatti adesso abbiamo presentato, presenteremo il nuovo listino nelle quali vedremo proprio che i numeri andranno leggermente in positivo, anche se i valori probabilmente restano un po' inferiori alle medie rispetto a dieci anni fa. Però siamo fiduciosi che il numero delle transazioni sta aumentando. Grazie a tutti.